A quanto pare, nella trasmissione Pequenius Gigantes ne succedono tutti i colori, soprattutto tra gli ex coniugi Bella Rodriguez e Stefano De Martino, che dopo la separazione avvenuta lo scorso dicembre stanno affrontando questa avventura televisiva insieme e decisamente con una certa eleganza. Durante la partecipazione di Belen e Stefano a Pequenius Gigantes abbiamo assistito a parecchie scene di complicità tra i due. Nella prima puntata si sono prestati a mettere in scena un finto matrimonio per accontentare il piccolo Giorgio, diventato già a quattro anni una star de web e nella prossima puntata Belen e Stefano daranno forse ancora di più. Durante la puntata infatti pare che Belen vestirà i panni della bella addormentata, pronta ad essere risvegliata dal bacio del vero amore come i rifiabbi insegnano. Dal video diffuso online dal canale Vitti TV, il piccolo Giorgio avrebbe dovuto vestire i panni del principe azzurro e risvegliare la bella addormentata, impersonata da Belen. All'ultimo momento non ce l'ha fatta e ha chiesto a Stefano Di Martino di baciarla al suo posto. A questo punto non si sa se il bacio ci sia stato o no. Quello che si sa è che tutti i siti e le riviste di gossip stanno aspettando per vedere come evolverà la situazione. E noi vi terremo aggiornati.